Natalità, cessazione di imprese. In Molise il saldo è positivo. Il periodo di riferimento il secondo trimestre 2017. I dati in valore assoluto fanno segnare un saldo di più 256 imprese. E' quanto promana dalla rilevazione dell'ufficio studi di Union Camere Molise. Tra aprile e giugno le aziende neocostituite sono 554, erano 708 un anno fa, le cessazioni 298, 370 nello stesso periodo dell'anno precedente. Complessivamente a fine giugno 2017 sono 35.309 le imprese registrate presso la Camera di Commercio del Molise. In termini percentuali la crescita allo 0,73% rallenta il passo rispetto all'anno precedente, disaggregando il dato per settore, quello che ha registrato il saldo più consistente, l'agricoltura. Tra nascita e cessazioni si registrano 53 aziende in più. Più modesti i saldi dai servizi alle imprese, più 7 unità, servizi alla persona, più 5 imprese, dalle costruzioni, più 4 aziende, a concludere il settore delle assicurazioni e credito, più 2 unità. I saldi negativi riguardano invece le attività manufatturiere, con un meno 9 imprese nel trimestre, a seguire il comparto del commercio, con un meno 5 unità, ed il turismo, con un'azienda in meno. Altro dato di interesse è quello relativo alla veste giuridica di queste imprese. Incoraggiante il dato delle imprese individuali. Sono 136 in più, il 53% dell'incremento complessivo, più 124 le imprese nella forma di società di capitali. Le altre forme giuridiche, cooperative e consorsi fanno segnare un saldo pari a più 11 imprese, per un tasso di crescita che sfiora l'1%. Il dato del Molise si inserisce nell'alveo nazionale, in cui tutte le regioni fanno segnare degli incrementi più o meno significativi. Da rilevare che circa il 40% del saldo positivo è localizzato nelle regioni del Mezzogiorno. Ma visto il gap da recuperare al sud, rispetto alle altre aree del territorio nazionale, questa crescita non deve trarre in inganno. In realtà la strada da percorrere in termini di crescita economica, produttiva e commerciale è ancora tanta.